Agli ordini dello starter Partiti Thousand Grants Giacas Largo Rainy Days Questi primi Non c'è molta andatura Non ha strappato nessuno Allora all'interno Rainy Days Prova A rientrare a Thousand Grants Che rimane davanti Poi Giacas all'esterno Omond in corda e Costantin a tiro Con Thousand Grants Rainy Days Giacas, Omond e Costantin Nello stesso schema Thousand Grants è libero di graduare Da Rainy Days, Giacas all'esterno Omond in corda e in coda Costantin Thousand Grants Scappa da Rainy Days che all'esterno Giacas in corda Omond Thousand Grants in fuga per la vittoria Da Rainy Days Giacas di fuori Di dentro Omond Poi Costantin Indirittura Thousand Grants Prova a scappare da Rainy Days Di dentro c'è Omond A largo Giacas In coda Costantin Con Thousand Grants Richiesto per scappare da Rainy Days All'interno da Omond A largo da Giacas Poi Costantin A metà retta Thousand Grants Deve difendere due lunghezze Da Giacas all'esterno Di dentro da Omond Con Giacas che prova a andare a prendere Thousand Grants C'è lo scatto di Giacas A prendere Thousand Grants Giacas che insiste Giacas Thousand Grants Omond 1-3-2 Andrea Fele Per Simone Fiorentini Team Morty Filippo e Andrea Vince Giacas Che torna al successo Dopo quella del 13 gennaio Secondo Thousand Grants Terzo Omond 1-3-2 Vediamo chi è quarto Andiamo con la camera Rive 1-3-2 E poi per la quarta moneta Rainy Days Davanti a Costantin È tutto Grazie 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 della famiglia Orti Andrea Fele oggi in sella cavallo di qualità oggi la corsa era bella tirata e quindi mi è venuta anche bene era meglio degli altri e Andrea Fele torna alla vittoria a Giacas secondo successo per Andrea oggi a San Rossore